buonasera a tutti benvenuti in questo nuovo video ho aspettato a fare il video su washington ho aspettato dopo la prima vittoria di sinner ho voluto aspettare la seconda partita ebbene gli anni sinner dopo credo dopo barcellona quindi dopo la settimana dopo monte carlo dove si non erano raggiunse la semifinale finalmente ha vinto due partite a fila in uno stesso torneo buona partita di sinner intanto iscrivetevi al canale e lasciate un like al video dicevo buona partita di sinner anche se nel primo set il solito problema di andare a servire per il set che prendere il break nel momento chiave comunque nel complesso un buon sinner aiutato dalla probabilmente dalla sua superficie preferita che non è nella terra né tanto meno l'erba è il cimento quindi si sta giocando nella sua superficie preferita si stanno vedendo sprazzi di buon sinner e questo certamente aiuta il ragazzo che aveva bisogno come il pane di vincere questa questa partita di trovare un po di fiducia e di arrivare nei quarti di finale di questo 500 che non ha un tabellone impossibile sinner è dalla parte opposta rispetto a nadal quindi si può fare strada si può arrivare anche fino in fondo e sarebbero punti importanti dopo una primavera e un'estate veramente veramente sotto tono ma è un inizio estate perché chiaramente siamo anche ora in estate anzi siamo nel bel mezzo dell'estate però diciamo che la primavera e i tornei sull'erba estivi sono stati un mezzo disastro per i anni 76 76 accorda con sì è vero il contro break subito mentre mentre si serviva per il per il me per il set però anche vero un buon recupero all'ultimo tuffo del secondo set quel contro break sul 5 4 che ha permesso a sin di evitare un fastidioso quanto pericoloso terzo set considerando anche la situazione mentale del giocatore cioè una partita dove vinci il primo set sei costretto comunque andare al terzo se in un momento in cui non ti va bene niente nel senso che perdi partite che potresti vincere non ti basta avere vantaggi quindi è bene che abbia chiuso in due ripeto un buon sinner io ho visto ho visto un buon sinner chiaramente ben lontano da quello che era è molto lontano da ciò che era ma vedo un sinner che in queste due partite prima con musvori e poi con concorda dato dei confortanti segnali di ripresa probabilmente gli ha fatto bene giocare il doppio ad atlanta e vincerlo il doppio vinto il doppio vinto ha fatto ha fatto bene ha fatto ritrovare ritmo partita e insomma ripeto non è ancora il sinner a cui eravamo abituati fino a miami però è un sinner che non è neanche il sinner di un mese fa ecco è un sinner in ripresa si vede che probabilmente la scelta di non andare alle olimpiadi è stata è stata una scelta azzeccata si vede che è un giocatore che piano piano sta recuperando il suo tennis quindi speriamo bene speriamo perché veramente l'involuzione di sinne negli ultimi tempi mi stava preoccupando io ci credo tanto in questo ragazzo che trovano sa delle potenzialità mostruose e deve solo capire come si fa probabilmente il la fama è arrivata un po troppo presto e adesso bisogna adattarsi a questa situazione e queste due vittorie sono sono ossigeno puro ecco l'avversario nei quarti sarà sarà johnson quindi un'altra partita ampiamente alla portata di anni che anzi io credo che gli anni parta domani favorito e si può andare in semifinale insomma fare una semifinale una finale in un 500 è tutta fiducia tutta benzina tutta fiducia nel nel motore di anni che ha bisogno di rimettersi in moto per quanto riguarda le olimpiadi cambiando completamente discorso straordinaria l'italia alle olimpiadi medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre medaglia d'oro poi nel nella vela nella vela di coppia ora io scusate i termini ma purtroppo non conosco i termini della vita insomma la vela a due d'italia maschile e femminile mista ha vinto una medaglia d'oro e poi la 20 chilometri di marcia altra medaglia d'oro quindi siamo a se non erro a sette medaglie d'oro un totale di 35 medaglie a una sola medaglia dal record di roma se non erro dal record di roma e dal record di los angeles però va detto che il record di los angeles è un record un po farlocco perché mosca 1980 e los angeles 1984 ci fu il bocoltaggio delle olimpiadi qualche paese non andò a mosca ai paesi occidentali non andarono a mosca qualche paese del blocco sovietico non andò a los angeles quindi sono due edizioni in cui diciamo che non hanno partecipato tutti i paesi tutti i paesi del cio e quindi il record è quello di roma io los angeles non ce lo considererei e abbiamo venerdì sabato abbiamo tre giorni per pareggiarlo o meglio ancora superarlo comunque già un'edizione delle olimpiadi che considerando anche il grandissimo numero di argenti e grandissimo numero di bronzi ripeto 35 medaglie 7 ori il resto sono argenti e bronzi mi sembra una decina di argenti e 18 bronzi ora non vorrei sbagliare ma insomma vuol dire che siamo competitivi magari non ai massimi cioè magari non da oro siamo da oro siamo competitivi in poche discipline ma siamo ai massimi livelli in moltissimi sport perché quando riesce a entrare nei primi tre vuol dire che sei competitivo in molti sport e 35 medaglie sono veramente veramente tante per l'italia quindi complimenti a tutti gli atleti speriamo di aggiungere altre medaglie da qui a domenica e speriamo appunto che i anni sinner arrivi nei primi quattro a washington grazie a tutti io vi invito ancora a iscrivervi a mettere un like al video a iscrivervi al canale e vediamo se si riesce arrivare a 250 iscritti per la fine degli us open grazie a tutti e arrivederci